Signore, ma solo... no, signore, non mi stai facendo così, vogliamo solo vedere Cristian, solo Cristian, 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 un secondo vedere Cristian, un secondo vedere Cristian, dove sei Cristian, no, no, solo un secondo, ma pazzesco, pazzesco. Siamo qui con Ornella e Luciano, i nonni del piccolo Cristian, il bambino che è stato portato via il 19 agosto e il 14 settembre ci sarebbe stata l'udienza per l'affidamento, infatti il bambino era stato affidato ai nonni paterni in quel periodo e finalmente, dopo tanto cercare, si è avuto appunto una segnalazione che il bambino era stato appunto visto in Russia. La nonna ha preso l'aereo e è andato a vedere appunto questo bambino. Ornella, ci vuoi raccontare dopo la segnalazione, sei andata là, che cosa hai visto? Noi dopo la segnalazione, felicissimi perché dopo quattro mesi di non avere nessuna notizia, di non sapere dove poteva essere andato a finire questo bambino, come abbiamo saputo da questa segnalazione, abbiamo deciso con il supporto di giornalisti che mi hanno accompagnato, siamo partiti e siamo andati in Russia con la speranza in cuore di poter rivedere logicamente il mio nipotino. Sono partita nella borsa di regalo di Natale perché comunque avevamo già portato avanti tutte le pratiche, in questi quattro mesi avevamo fatto il possibile con l'avvocato, avevamo alertato la Farnesina per tutte le pratiche perché comunque il bambino era affidato a noi e la Farnesina e l'autorità centrale di Roma così avrebbero dovuto comunque appena saputo di dove poteva essere il bambino portare avanti il discorso di poterlo riportare da noi. Allora comunque non ho resistito, sono partita e ho preso l'aereo per Mosca, poi per Celiabinsk e niente, con questa troupe che mi ha supportato, la troupe delle Iene, ci siamo postati sotto casa il primo giorno, tutto il giorno avevamo l'indirizzo a questo punto di dove era il bambino, aspettando che il bambino potesse uscire di casa per farmi vedere. Certo che il tempo ci è stato un po' avverso perché il primo giorno nevicava e perciò il bambino di casa non è uscito. Voi in quel momento eravate sicuri che si trattava di Cristian? Ci avevano mandato un video in cui io avevo riconosciuto che il bambino fosse lui e lì certo la decisione, non essendoci il dubbio che il bambino fosse lui, la decisione di partire subito perché a volte la voce del cuore passa a quella della mente. Siamo arrivati là, il primo giorno non abbiamo concluso niente perché appunto il bambino non è uscito di casa, perché comunque in una zona dove le temperature sono fredde così nevicava. Il giorno dopo abbiamo aspettato dalla mattina fino a mezzogiorno e poi quando abbiamo visto che comunque nevicava o che comunque avevamo il dubbio che magari potessero aver notato qualcosa per cui non l'avrebbero fatto scendere perché avevano il dubbio magari che qualcuno li stesse osservando, allora hanno deciso di intervenire e comunque di provare ad andare a bussare dicendo non vogliamo niente, siamo qua però siamo qua e sappiamo che il bambino è qua, fatemelo vedere almeno il tempo di dare il regalo di Natale. Quando siamo entrati, niente, ha comunque chiesto a dei giornalisti russi che avevano già ripreso l'ala, questa storia, quando aveva stato portato via, sapevano già l'argomento e sono subito accorsi sul posto e con loro comunque tutta la truppa siamo andati, abbiamo bussato e abbiamo chiesto solamente di farmi vedere il bambino. è uscita la nonna materna di Cristian, sbraitando e che non voleva essere disturbata, così allora abbiamo chiesto un intervento sentendo il bambino che sembrava di sentire il bambino che piangeva, così allora abbiamo chiesto alle autorità se potevano intervenire perché noi fondamentalmente non stavamo facendo niente, avevamo solamente bussato alla porta e loro sono intervenuti e hanno guardato le carte e hanno detto che noi, certo, nel frattempo era arrivata anche la carta dove diceva che comunque tutte le nostre carte oramai erano, quello che c'era a portare avanti le nostre carte era comunque tutto in regola, era arrivata anche a Mosca, era stato mandato, la parte burocratica dove diceva che comunque il bambino adesso era stato trovato e che risiedeva lì con l'indirizzo e tutto quanto, con anche la documentazione che era stato portato via, che l'Italia aveva chiesto comunque il rimpatto immediato dato dal Tribunale che noi eravamo i nonni affidatari così, però le autorità ci hanno detto che comunque in Russia se non c'è una conferma del Tribunale russo queste cose che sono successe in Italia per loro non hanno valenza e tutto quello che posso chiedere io è che adesso lei con molta amarezza sono tornata in Italia senza che lei mi abbia permesso di poter vedere neppure un minuto mio nipote, ho dovuto lasciare ad una vicina di casa il regale che avevo portato per Natale e adesso chiedo che le autorità, ho chiesto anche là le autorità russe, visto il buon rapporto con l'Italia e chiedo anche alle autorità italiane che mi supportino nel fatto che facciano velocemente tutto il possibile affinché Christian possa essere riportato da noi perché comunque l'atteggiamento è stato portato via e l'atteggiamento che hanno avuto nei nostri confronti che abbiamo sempre supportato per l'amore di questo bambino è stato veramente una cosa indescrivibile.